Io non credo che l'economia sia buona o cattiva. Credo che dipende dall'uso che gli uomini fanno di questa scienza, disciplina, di questa parte della vita. Credo che l'economia non è il tutto, ma certo sta influenzando le nostre vite, la vita degli uomini, delle donne, molto di più oggi di quanto fosse secoli o millenni fa. E credo che sia un'epoca di grande trasformazione che nell'insieme produrrà benessere, ma che i prossimi anni e gli anni in corso ci costringeranno ad attraversare dei cambiamenti forti, violenti e pericolosi per tanta gente più fragile. Io credo che le imprese non sono dei luoghi per produrre profitto. Credo che le imprese siano e debbano essere sempre di più delle comunità, dei luoghi in cui viviamo tutti, a livelli diversi di impegno o di apparente potere, gran parte della nostra vita. E come comunità credo quindi che dobbiamo, ognuno di noi lo dico da credente, lo dico da ex scout, concepire qualunque potere come responsabilità e servizio, e non come luogo di affermazione di noi stessi. Nel concreto, in Italia è certo che non siamo così tanto meritocratici, non siamo neanche così tanto giusti. Le industrie che hanno garantito tanto benessere e tanta crescita negli ultimi decenni non saranno più così tanto sicuramente per la gente un luogo di riferimento. Io credo si possa costruire giustizia, si possa offrire alla gente una realizzazione di sé come persone e che i posti di lavoro non rappresentino semplicemente degli stipendi o degli strumenti di profitto, ma rappresentino un modo di esistere e costruire le nostre storie di persone. Tutto comincia dalla coerenza morale, etica dei capi e gli azionisti o dirigenti che siano, perché nella mia esperienza fondare o guidare delle aziende è una responsabilità educativa in cui la gente ci osserva in base al modo in cui noi ci comportiamo. Ciò che io sto imparando, invecchiando, vivendo è l'umiltà che solo la fede mi ha insegnato perché io non sono umile di natura. L'umiltà associata appunto allo spirito di servizio, solo questo potrà far cambiare l'economia nell'insieme, se cambieremo noi ogni giorno un pezzo. Grazie. 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 Grazie.